La sesta generazione della serie S di Valtra sarà la novità letteralmente più grande che Valtra presenterà all'Agritecnica quest'anno. Noi siamo venuti fin qua in Finlandia per presentarvela in anteprima. Davanti alla stampa internazionale, il Valtra S ha dato sfoggio di tutta la sua potenza e di tutti i miglioramenti che lo contraddistinguono. Il nuovo design, la cabina più spaziosa, l'impianto di luci a LED e tutti gli aggiornamenti dei pacchetti per l'agricoltura di precisione con l'interfaccia utente Smart Touch che rende la tecnologia Smart Farming di Valtra semplice e intuitiva. Orgogliosamente soprannominato The Boss, il Valtra S di sesta generazione, il più potente di tutta la gamma, sarà prodotto interamente nello stabilimento di Suolati che recentemente è stato ampliato con un nuovo reparto di verniciatura di 2000 m2 con un banco di prova dedicato alle trasmissioni Vario che da ora in poi saranno prodotte proprio qui in Finlandia. Mosso dal motore Agico Power da 8,4 litri che funziona a bassi regimi e consuma fino al 10% in meno rispetto al modello precedente, il Valtra S è anche un trattore sostenibile e pulito. La fabbrica di Suolati funziona infatti al 100% con energia rinnovabile e il suo motore è compatibile al 100% con i diesel rinnovabili di ultima generazione. La produzione in serie della Serie S sarà avviata nel secondo trimestre del 2024 e le prime consegne in Europa sono previste per l'estate. Naturalmente tutti i modelli della nuova Serie S potranno essere personalizzati direttamente in fabbrica con le innumerevoli opzioni Unlimited. Non solo la carrozzeria del colore desiderato, ma anche optional esclusivi come il sistema di lubrificazione centralizzato, il sistema audio all'avanguardia con Apple CarPlay e Android Auto o le telecamere View che attraverso un display ad alta definizione e algoritmi avanzati di apprendimento automatico rilevano automaticamente tutti gli oggetti che si muovono davanti al trattore e avvertono il conducente per garantire una maggiore sicurezza sul campo e in strada. Grazie a tutti!